Sono 60 anni che è uscito uno straordinario film, il capolavoro di Lucchino Visconti, Il Gatto Pardo, che a sua volta è la sceneggiatura del romanzo straordinario di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, anche esso intitolato Il Gatto Pardo, uscito nel 1958 e che immediatamente raggiunse un successo straordinario e quindi romanzo e film sono entrambi straordinari da leggere e da vedere. Anche il film è importantissimo perché è sostanzialmente molto fedele al romanzo e ha delle scene al di poco straordinarie nella loro ricostruzione e nella meticolosità con la quale fin dai costumi, dai palazzi, dalle scene che sono state girate, si capisce la tempra e la forza di un grandissimo regista. Andiamo al romanzo. Vi leggerò pochissime pagine che contengono però una delle frasi che oramai è diventata di opinione comune, di che riguarda tutto quello che può scaturire da una rivoluzione. Inizio da pagina 40, sono tre quattro pagine, buon ascolto. La mattina dopo il sole illuminò il principe rinfrancato, aveva preso il caffè ed in veste da camera, rossa fiorata di nero, si radeva dinanzi allo specchietto. Bendicò poggiava il testone pesante sulla sua pantofola. Bendicò era l'alano di famiglia. Mentre si radeva la guancia destra, vide nello specchio dietro la sua la faccia di un giovanotto, un volto magro, distinto, con un'espressione di timorosa beffa. Non si voltò e continuò a radersi. Tancredi, cosa hai combinato la notte scorsa? Buongiorno zio, cosa ho combinato? Niente di niente, sono stato con gli amici, una notte santa. No come certe conoscenze mie, che sono state a divertirsi a Palermo. Il principe si applicò a radere bene quel tratto di pelle difficoltoso tra labbro e mento. La voce leggermente nasale del nipote portava una tale carica di brio giovanile che era impossibile ad avviarsi. Sorprendersi, però, poteva forse essere lecito. Si voltò e con l'asciugamano sotto il mento guardò il nipote. Era intenuta da caccia, giubba attillata e gambaletti alti. E chi erano questi conoscenze? Si può sapere. Tu, zione, tu, ti ho visto con questi occhi al posto di blocco di Villa Iroldi, mentre parlavi con se gente. Belle cose alla tua età e in compagnia di un reverendissimo, i ruderi libertini. Era davvero troppo insolente. Credeva di poter permettersi tutto. Attraverso le strette fessure delle palpebe, gli occhi azzurro torbido, gli occhi di sua madre, i suoi stessi occhi lo fissavano ridenti. Il principe si sentì offeso. Questo qui veramente non sapeva a che punto fermarsi, ma non aveva l'animo di rimproverarlo. Del resto, aveva ragione lui. Ma perché sei vestito così? Cosa c'è? Un ballo in maschera di mattina? Il ragazzo era diventato serio. Il suo volto tirangolare assunse una inaspettata espressione virile. Parto, zione. Parto fra un'ora. Sulla minuta a dirti addio. Il povero Salina si sentì stringere il cuore. Un duello. Un grande duello, zio. Un duello con Franceschiello, Dio guardi. Vado nelle montagne a Ficuzza. Non lo dirà nessuno, soprattutto non a Paolo. Si preparano grandi cose, zio, e io non voglio restare a casa. Dove del resto mi acchiapperebbero subito se vi restassi. Il principe ebbe una delle sue solite visioni improvvise. Una scena crudile di guerriglia, schioppettata nei boschi, ed il suo tancredi per terra, sbudellato come quel disgraziato soldato. Sei pazzo, figlio mio. Andare a mettersi con quella gente. Sono tutti mafiosi e imbroglioni. Un falconieri deve essere con noi, per il re. Gli occhi ripreso da sorridere. Per il re, certo. Ma per quale re? Il ragazzo ebbe uno di quei suoi accessi di serietà che lo rendevano impenetrabile e caro. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato? Abbracciò lo zio, un po' commosso. Arrivederci a presto. Ritornerò col tricolore. La retorica degli amici aveva astinto un po' anche su suo nipote. Eppure no, quella voce nasale vi era un accento che smentiva l'enfasi. Che ragazzo! Le sciocchezze e nello stesso tempo il diniego delle sciocchezze. E quel suo Paolo, che in quel momento stava certo a sorvegliare la digestione di Guiscardo. Questo era il figlio suo vero. Il principe si alzò in fretta, si strappò l'asciugamanni dal collo. Frugò in un cassetto. Tancredi, Tancredi, aspetta! Cosse dietro il nipote. Gli mise in tasca un rotolino di onze d'oro. Gli premette la spalla. Quello rideva. Sussidi la rivoluzione adesso, ma grazie Sione. A presto e tanti abbracci alla zia. E si precipitò giù per le scale. Venne richiamato Bendicò, che insegriva l'amico riempendo la villa di urla gioiose. La rasatura fu completata. Il viso lavato. Il cameriere venne a calzare e vestire il principe. Il tricolore. Bravo, il tricolore. Si riempiono la bocca con queste parole. I bricconi. E che cosa significa questo segniacolo geometrico? Questa scimmiottatura dei francesi, così brutto in confronto alla nostra bandiera candida con al centro l'oro gigliato dello stemma. E che cosa può far loro sperare questa cozzaglia di colori stridenti? Era il momento di avvolgersi attorno al collo il monumentale cravattone di raso nero. Operazione difficile durante la quale i pensieri politici era bene venissero sospesi. Un giro, due giri, tre giri. Le grosse dita delicate componevano le pieghe, spianavano gli sbuffi, appuntavano sulla seta la testina di Medusa con gli occhi di Rubino. Un gilet pulito. Non vedi che questo è macchiato? Il cameriere si sollevò sulla punta di piedi per infilare la Redingot di panno marrone. Gli posse il fazzoletto con le tre gocce di bergamotto. Le chiavi, l'orologio con catena, il denaro, se li misi in tasca da sé. Si guardò allo specchio. Non c'era da dire. Era ancora un bell'uomo. Rudere libertino. Schelza pesante quel Tancredi. Vorrei vederlo alla mia età. Quattro ossa incatenate come lui. Il passo vigoroso faceva tinire i vetri dei saloni che attraversava. La casa era serena, luminosa e ornata. Soprattutto era sua. Scendendo le scale capì. Se vogliamo che tutto rimanga com'è? Tancredi era un grand'uomo. Lo aveva sempre pensato. Il romanzo ovviamente prosegue, ma credo che il punto centrale, straordinario e iniziale è stato veramente ben detto.